Sì, sono contento del risultato, sono contento della prestazione, vincere qui ad Ortanova non sarà facile per nessuno. Abbiamo vinto secondo me molto tranquillamente, certo il 9 contro 11 su una palla inattiva hanno fatto gol, però noi abbiamo sbagliato veramente tanto. Sono contento di come abbiamo giocato, della prestazione e di tutta la squadra. Adesso sembra che il duello sia quello tra Molfetta e Corato in vetta al campionato, sarà così fino a fine? Sì, io penso che ci sarà anche il Martina, penso che queste tre saranno le squadre che lotteranno per vincere il campionato. Giudizio sull'Ortanova? Una ottima squadra, soprattutto in casa darà particolarmente fastidio perché qui è un campo non semplice da giocarci perché comunque l'erba è piuttosto alta. Quindi lavorando sulla grinta, sulla determinazione sicuramente in casa darà fastidio a tutti. Quindi per questo sono particolarmente contento della vittoria. Molfetta che sta già pensando al mercato? Noi abbiamo l'obiettivo di vincere questo campionato, quindi se a dicembre ci sarà la possibilità di rafforzare la squadra lo faremo sicuramente. Vittoria è arrivata, a fine partita i tifosi hanno avuto qualcosa da dire però la squadra? Sì, perché in 9 contro 11, secondo loro abbiamo sofferto, ci può stare, i tifosi hanno sempre ragione. Poi oggi eravamo un po' di più rispetto al normale, quindi non siamo contenti di tutto quello che loro stanno facendo. Allora è giusto che dicano la loro e noi però continuiamo per la nostra strada che penso insomma di, che stiamo facendo molto bene.